Una vera storia, una reale ragazza, un segreto mistero diventante una grezza denuncia. Dallo studio bunker di via Massena Zero, chi ha illuso Luisa? Spiriti, spiritelli, diavoletti, poltergeist, sono tante le creature misteriose che terrorizzano il sonno dei bambini. E una di queste, una soltanto, sta terrorizzando la povera Luisa. Ciao Luisa, ti abbiamo contattato nuovamente, nonostante io e settimane che vorrei evitare. Perché? Perché secondo me siamo arrivati a un punto in cui non si svolta. Facciamo la radio sottovoce, un po' come piace a noi amici della notte. Quello è Marzullo Luisa, cosa c'è? Ciao Luisa! Ciao, sono Luisa, sono una ragazza di 28 anni, molto bella, direi proprio una figa passiva. Sì, vabbè, esimiamoci. Ma è inutile girarci intorno, lo sanno tutti che io... Entriamoci... La cosa che mi rammarica e che mi sorprende è che nonostante il mio fisico prorompente... E' statuario. E' statuario, bellissimo. I miei capelli ricci, con lo shampoo di Ouidati, io non si è ancora riuscita a sfondare nel mondo dello spettacolo, nonostante anche la mia mamma che è qui con me... Luisa, secondo me tua madre ti sta spingendo a fare una cosa che tu in realtà non vuoi, è per questo che non hai raggiunto il tuo obiettivo, cioè tu sei pilotata da tua madre come Goldrack d'Aktarus. Perfetto, e vai a non dirlo. Eh, sì, però te l'ho detto io... No, perché la mia mamma, lei insiste, dice ce la farai, e allora... E poi ieri... La cosa è che quando io smetto di sperare, loro mi chiamano. Aia! Aiaiai, ti tartassano. Poi lei ieri sera mi ha chiamato ancora, poi lui continua a telefonare. Ma lui chi? Poi loro... Loro chi? Sapete, avete notato che c'è un'assenza, quindi... E dov'è? Infatti non c'è sgrunt. E infatti, no? Allora sgrunt e giro a fare dolcetto e scherzetto. Ma è un cane, è un cane, non può. Ah, magari la gente pensa che è mascherato. Eh, ma un'intelligenza. Lui con la zampina va a bussa graffia. Sì, ma no, sì. Ma l'anno scorso non ha raccolto quasi 2.000 euro. Eh, 2.000 euro? Ma scusate, si danno... Non si danno i soldi, si danno i soldi. Ma bravo cosa! Che la mamma ha messo un cartello sul collare. Cosa c'era scritto? Cosa c'era scritto, mamma? Fatti pagare! Ma signora! Ma che cosa? Ma partiamo i cartelli! Bastari! Ma figlia! Senti Luisa, noi... Ciao, sono Luisa. Sì, l'abbiamo già detto, questo non... Questa non è la mia vera voce, preferisco rimanere nell'anonima. Dimmi, Fabio. Sì, volevo dirti, senti Luisa, tu come vivi la festa di Halloween? Una festa dove per una volta anche gli altri si mascherano come te. Allora, io questa sera sono stato invitato, perché loro mi hanno invitato. Loro chi? Loro chi, scusate. Poi anche lei mi ha chiamato... Loro, lei, poi loro mi chiamano... Vabbè, questi sono gli antidepressivi che stanno devastando. Poi questa sera, allora, viene a prendere lui. Lui chi? Su cosa viene a prenderti? Preferirei non... Non? Preferirei lasciare stare. Ma cosa farai? Ha una bella macchina, lui, molto bella. Che macchina ha? Molto interno in pelle, cambio... Sì, cambio... Acoustic Park, in Pianto Boss. In Pianto Boss, però... Quattro frecce. Quattro frecce, erano tutti. C'è il Tretuccio a Pribia. Si chiama Camerina. Perché ridi? Devi dire anche che la macchina è intercooler. Ma si... Ma ma basta! A parte che il sistema di raffreddamento non si usa più. Scusa se te lo dico. Eh, che diamo. Allora, questa sera mi ha detto, vieni che c'è una festa. L'importante è che ti vesti, diciamo, un po' provocante. Ma sì, è Halloween. Allora, lui mi manda dei messaggini. Cosa ce l'ha scritto nei messaggini? Ce l'ha scritto un messaggio in codice che io e lui ci capiamo. Cioè? Vivi. Vivi? Vestiti vulgar. Ma basta questa roba. Ah beh, perché? Come ti vesti stasera? Ma allora io ho mai questo impermeabile tipo stile, diciamo... Ispettore... No, provatemi a finire. Tipo chitarrista di Rovel Parma negli anni 80. Madonna, che riferimento, se lo ricordo. Allora, andate a vedere il video, erano solo donne. Avevano un trencio e sotto erano quasi nude. Ma sbettiamo, per favore. Tacco 12. Sì? Anche alle mani? E lui mi ha consigliato una marca in particolare. Mi sono un po' offeso all'inizio. Che marca ti ha consigliato? La Boutin. Ma... Eh, ma forse è un sottile... Non era un consiglio. È un sottile... Infatti, lascia stare, va che me. Poi mi ha detto, se vieni ti faccio partecipare attivamente alla festa e ti faccio anche conoscere delle persone importanti che si occupano di spettacolo. Tipo? Preferirei non... Non dirlo. Non che. E ti faccio cantare. Lui mi sto esercitando con la mia mamma. È tornato Sgrunt. Sgrunt, ben tornato. Sgrunt! Quanto hai fatto? 3.000 euro. Ma vai a capirlo! Ma cosa ci fai? Ma è un cane! Vai, mandalo fuori di nuovo! Ma signora, ma è un cagliorino! Sgrunt, vai a fare il dolcetto che facciamo. Andalo, insidane i biscotti, mica! Allora, ragazzi, se voi me lo chiedete, io canto. No, non abbiamo chiesto niente. Ok, va bene. Questo è thriller? Cosa mi avete chiesto di cantare che non ho sentito? Ti chiedevamo se questo è thriller. Ok, se volete che canti thriller, canto thriller. Va bene, Paolo, se esisti così. No, no, sì, non ho detto niente. Ma ti muovi anche come una zomba? Beh, chiaramente, preferirei farlo. Vado! Aspetta che c'è un web che la voglio vedere. It's close to me, night. And something evil lurking in the dark. Il bese è perfetto! Under the moonlight. Cos'è? You see a side that almost tops your heart. You try to scream. Bravissima, Ale. But terror takes the sound before you make it. Bravo, bravo! Ma brava cosa! You try to freeze. Free cosa? E zorro buzio rai. E così? Zorro buzio rai. You parala. Fai. Cos'è ti strile. Trilena. Cioè, io veramente sono morto dentro come gli zombie del video. Basta così? Sì, sì, perché gli zombie sono rientrati nelle tombe per lo schifo e la tristezza. Luisa. Allora, io vado perché stasera esco con Quincy Jones. Con Quincy Jones? Senti, Luisa. Se proprio volete che faccia dei nomi. Così appiantate di trattarmi come se fosse una pezza da piedi. Sì, 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 sì. Trattate come una pezza da piedi. È vero, ti chiediamo scusa Luisa, ma prima di salutarci devi rispondere a questa definitiva domanda, innescata proprio dalla festa di Halloween. Luisa, prima o poi, tu, getterai la maschera. Aspetta, Luisa, è arrivato Sgrunt. Quanto hai fatto? 6.000 euro. Ma la rapida, ma la presti in cano Luisa, mi piace. Comunque la risposta non è come tutti gli aspetti, Fabio. Ah, e qual è? Pannato. Cioè? Preferirei non... Ma vada. Ma vada. Mi piace Luisa pagliacciata. Luisa, Luisa. Giova, 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 Giova. Radio C. Giova, Giova. I've gone away.